Allora, funziona? Sì? Allora, buonasera, bentrovate, bentrovati, molto interessante rivederci qui, ci stavo pensando quando scendevo le scale all'inizio, perché non ero mai stato, questa sala così space, direbbe qualcuno, no? È interessante perché in realtà nel percorso che ha riassunto adesso per sommi capi Matteo Bagnasco ci siamo trovati in luoghi molto diversi da questo e però secondo me è proprio questa differenza che dà un valore, questa diversità che dà un valore alla traiettoria. Il primo incontro è stato a fine giugno, appunto c'erano molti di voi, a Biozanam, quindi diciamo uno spazio, almeno per me che vengo da fuori Torino, per noi che veniamo da fuori Torino è decisamente periferico, nel senso che è uno di quei posti che ci si mette tanto per raggiungerlo, un ex opificio, però è uno spazio estremamente vivo, molto direi anche identificativo in qualche modo della ricchezza degli spazi che ci sono qua e della sedimentazione di storie, e di vissuti soprattutto della partecipazione attiva ma più in generale del terzo settore. Là eravamo appunto, se non mi ricordo male, 24, quindi 17 tra leati strategici, diciamo la primissima fascia di contatti e relazioni della missione per favorire la partecipazione attiva, e lo staff, che secondo me è stato interessante anche il fatto che in questa giornata estremamente intensa, anche chi ci lavora si è messo in un'ottica di coproduzione e coprogettazione, rimettendo anche un po' in discussione tante cose, o almeno porgendo il destro, mettiamola così per le reinterpretazioni di tante cose che stava facendo. Poi invece a inizio ottobre ci siamo trovati per due giorni alla casa del quartiere di San Salvario, quindi uno spazio decisamente storico per la società civile torinese e anche questo interessante perché poi oggi ci troviamo qua. E quindi vedere questa serie di ponti che portano da uno spazio in rigenerazione, rigenerata e rigenerazione, molto in periferia, in un altro spazio centrale ma in un quartiere comunque è cambiato molto negli ultimi decenni, e poi fino a qua invece con Galleria d'Italia credo che sia una buona prospettiva dalla quale guardare un po' il percorso che abbiamo fatto. Allora io questa cosa che non l'ho ancora provata, vediamo, ok, perfetto. Dunque, di cosa, entro un po' nel dettaglio del metodo, chiedo Venia perché appunto molti di voi ci sono stati anche a ottobre, quindi hanno già in qualche modo sentito un po' raccontare dell'impostazione che abbiamo dato, cercherò di essere veloce. Allora, in qualche modo questo percorso è il risultato di un metodo che abbiamo iniziato a elaborare cinque anni fa e credo sia una cosa interessante, l'abbiamo iniziato a elaborare proprio qua a Torino, con un progetto che con questo non c'entra, che si chiama Nube di parole, che facciamo all'epoca con il Polo del Novecento e due altre associazioni della Lombardia perché era all'interno di un percorso di finanziamento che prevedeva le interconnessioni tra la città di Torino e in realtà le regioni di afferenza di Fondazione Compagnia di San Paolo e altre parti d'Italia. Perché lo dico questa cosa? Perché credo che in qualche modo il ragionamento che facciamo all'epoca dal punto di vista metodologico ce lo siamo portato dietro nel tempo, ha a che fare chiaramente molto con il modo con cui guardiamo noi di che fare le cose ma in realtà ha a che fare soprattutto con come si struttura il territorio del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Allora, il metodo lo definiamo definizione collettiva emergente. Cosa vuol dire? Vuol dire che cerchiamo di guardare alla densità alla quale tra l'altro faceva riferimento prima anche Matteo Bagnasco di pratiche, di attori, di territori, di tipologie e modi di impugnare, imbracciare generare forme di partecipazione attiva che ci sono su questi territori e cerchiamo di capire quali sono le specificità che li muovono. E questa cosa la facciamo appunto cercando di dare un'impostazione più strutturata possibile. Per cui invece di calare dall'alto le definizioni, chiaramente sui mondi della partecipazione è stato scritto ad nauseam, mettiamola così, nel senso che è uno degli argomenti su cui moltissimo a chi fa ricerca piace giustamente fare anche teoria, l'impostazione che abbiamo cercato di dare invece è stata quella di ispirarci a un filone diciamo metodologico che è quello della grounded theory, quindi metà degli anni 60 in qualche modo e che prova a guardare alle definizioni delle pratiche a partire da come vengono concettualizzate da chi le mette in atto. Sembra una cosa complessa ma in realtà quello che ci interessa qua da dire è sostanzialmente una cosa. Invece di fare uno stampino e poi considerare le pratiche che sono sui territori come qualcosa da far rientrare all'interno di quello stampino abbiamo messo su un percorso ricorsivo e riflessivo all'interno del quale abbiamo chiesto ai soggetti soggetti che fanno partecipazione attiva come concettualizzano queste forme di partecipazione costruendo tra l'altro ovviamente un percorso di circolarità a più mandate tra dati e interpretazioni. quello che ci interessa è quindi capire da i soggetti che fanno partecipazione attiva e quindi in realtà al 99% o al 100% voi che siete in sala e diciamo in modo ancora più stretto quelli che hanno partecipato al percorso chiedere a loro come intendono la centralità delle pratiche che portano avanti cioè quindi cos'è che costruisce la centralità e cosa costruisce invece i perimetri e i confini questo lavoro è stato fatto attraverso una prima sistematizzazione dei dati raccolti quindi sostanzialmente dopo l'incontro di fine giugno del 28 abbiamo passato un bel po' di tempo un bel po' di tempo si trasforma in circa 150 pagine di sbobbinature e riformalizzazioni sostanzialmente quindi sulla base di quello che è emerso dai tavoli abbiamo costruito delle categorie delle strutture concettuali e poi che sono state diciamo riproposte a una cerca più largata di soggetti durante le due giornate di ottobre perché questa cosa? Perché sostanzialmente nella categorizzazione che abbiamo fatto a seguito del primo incontro con gli alleati strategici e guardate che da questo punto di vista sostanzialmente gli alleati strategici non sono necessariamente le persone che fanno la migliore partecipazione attiva ma sono sicuramente quelle che hanno passato più tempo negli ultimi anni a parlare tra di loro e quindi sostanzialmente a costruire una parte di glossario comune in qualche modo una parte di schema di interpretazione comune con cui guardano a quello che fanno e quindi in qualche modo hanno costruito un glossario più articolato a un certo punto quindi abbiamo detto ok siamo riusciti a fare emergere attraverso un primo ciclo questo glossario e gli elementi chiave di questi glossari diciamo portati dai gruppi di parlanti questo è un po' il termine tecnico che si utilizza di solito e l'abbiamo portati a un secondo giro che è stato fatto in due giornate gemelle quindi diciamo con esattamente la stessa struttura fatta a tavoli le categorie che sono emerse le abbiamo portate a questo appunto gruppi di stakeholder più allargati e quindi sostanzialmente gruppi di esperti parzialmente esperti e non esperti ma interessati indietro perché ok quindi scusate questo trezzo sapete che con questa proiezione a 360 gradi è tutto abbastanza complesso questo c'è solo avanti e indietro per cui diventa complicato quello che è emerso quindi sono una serie di noi usiamo questo termine dilemmi sostanzialmente dal QR code che sta all'interno della scheda potete scaricare un documento all'interno del quale abbiamo concentrato all'incirca 3000 battute spazi compresi scusate ma questi sono gli elementi tecnici che quando lo fai ti ricordi più degli altri una serie di definizioni che sono appunto 3000 battute più o meno sono diciamo poco meno di due cartelle di quelle editoriali l'elemento chiave qual è? è che dentro troverete le definizioni degli elementi chiave della partecipazione attiva date dai parlanti con evidenziati quali sono gli elementi che per loro sono estremamente rilevanti queste definizioni verranno adesso durante il pomeriggio durante il pomeriggio anzi questa cavalcata abbastanza veloce interpretate da dei testimoni da degli ambasciatori da dei discussant non abbiamo ancora deciso bene come chiamarli perché in realtà abbiamo chiesto agli ospiti di assumere tutti e tre questi ruoli quindi appunto ambasciatori, testimoni e discussant suddividendoli però in due blocchi cioè i primi tre relatori che arriveranno adesso dopo di me fanno parte in qualche modo anzi non in qualche modo strettamente del nucleo degli alleati strategici e si mettono in relazione con dei lemmi che hanno a che fare con il percorso che è stato fatto in questi tre anni e quindi in qualche modo sono lemmi e categorie concettuali della partecipazione attiva che sono sedimentate mentre invece gli ospiti, relatori, discussant che verranno dopo quindi i tre del secondo blocco guarderanno soprattutto alle categorie che hanno a che fare con sviluppi futuri possibili quindi bruciando anche in realtà tre minuti cioè guadagnando tre minuti sostanzialmente passo la parola a Massimo Cuoro di Biennale Democrazia al quale abbiamo chiesto di fare una riflessione su una cosetta che è collettivo e rappresentanza e mi porto anche il grazie 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 grazie